Musica Cari amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Alello Stazzale Ormai da mesi si sente parlare di una carenza di autisti sempre più preoccupante Ne abbiamo parlato anche insieme in una diretta qui su YouTube qualche mese fa Se non l'hai ancora vista ti lascio il link in descrizione Tra le tante motivazioni è venuta fuori anche da parte di alcuni aspiranti autisti Quella dell'eccessivo costo della patente Beh, amici, di questo non dovete più preoccuparvi Perché grazie all'emendamento dell'onorevole Raffaella Pajita Che va ad integrare il decreto trasporti pubblicato in gazzetta ufficiale il 10 settembre scorso Chi ha meno di 35 anni avrà un rimborso spese fino a 1000 euro Ma non comunque superiore al 50% delle spese sostenute e documentate Per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali Finalmente tutto si risolverà Usciranno fuori autisti come funghi E tutte le merci verranno consegnate con tranquillità, in pace ed armonia Oppure no? Ma siamo sicuri che questo intervento sia la panacea di tutti i mali? Che si tratti di un aiuto importante siamo d'accordo Ma quanto influisce un rimborso di 1000 euro sul conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali? Dato che la matematica non è mai un'opinione Facciamoci due conti Costo patente C? 1000 euro Costo CQC? 2000 euro Costo patente E? Beh, quello in realtà dipende da quante guide ti servono per conseguirla E per essere pronto per l'esame Però diciamo circa 600 euro Totale? 3600 euro Ora, il 50% di 3600 euro sono 1800 euro L'emendamento parla di un rimborso massimo di 1000 euro Quindi a te rimane comunque da paragare almeno almeno 2600 euro Il che vuol dire che il rimborso che ti ricevi è pari a circa il 28% E non al 50% Vabbè dai, però un po' di sconto l'hai avuto Ora hai le tue patenti professionali Puoi andare a fare il lavoro dei tuoi sogni Sei un autista E qualunque azienda trovi che ti dia un minimo di fiducia per farti cominciare Gli potrai dire sì, vengo, grazie dell'opportunità Proprio qualunque Eh no Patente CQC infatti ti possono ritornare utili solo per pochi tipi di lavoro E adesso ti spiego il perché Se si vuole trasportare certi tipi di carichi servono delle abilitazioni particolari Dei corsi professionali apposta Che hanno un costo E ora li andiamo a vedere Uno su tutti L'ADR L'ADR è un vero e proprio patentino Che si ottiene tramite corso più esame E che ogni 5 anni va rinnovato secondo la stessa modalità Quindi corso più esame E attenzione, ne esistono di diversi tipi ADR tipo B Corso base Serve per trasportare merce pericolosa imballata Trasportata per esempio in barili Oppure in cisternette containerizzate Questo corso ha un costo di circa 400€ E non solo In questo corso esistono anche due specializzazioni extra Diciamo delle estensioni Quella per il trasporto esplosivi Circa 150€ E quella per il trasporto di materiale radioattivo Anche questa Circa 150€ Poi abbiamo il corso ADR tipo A Cisterne Serve per trasportare merce pericolosa Appunto in cisterne Mi viene in mente Per esempio I carburanti Tante autoscuole organizzano un corso unico Per il base e il cisterna E per prendere entrambe Servono circa 700€ HACCP HACCP Questa certificazione è richiesta per trasportare alimentari Deperibili E non Si ottiene tramite un corso di 8 ore Costa circa 120€ il conseguimento E ogni 5 anni va rinnovata con un corso di circa 4 ore In genere A carico dell'azienda In genere Patentino animali vivi Beh, come suggerisce il nome Questo serve per trasportare animali vivi E ha un costo di circa 170€ Ovviamente i costi che vi sto elencando Sono indicativi Potrebbero variare da zona a zona Io ho cercato un po' su internet Sui siti di diverse autoscuole E questi sono i prezzi Che più o meno Visto che sono quelli più diffusi Comunque Prendiamo per buoni queste cifre Arriviamo a un totale di Patenti più CQC 3600€ Corsi ADR 1000€ Corso HACCP 120€ Corso animali vivi 170€ Per un totale di 4.890€ Ma la metà di questa cifra Sono 2.445€ Il rimborso statale È di 1000€ Equivale a circa il 20% Della spesa totale E il rimanente 30% Pari a 1.445€ Dov'è finito? Cari amici politici E giornalisti Che fate titoli tipo Le patenti costeranno il 50% in meno Rimborsi statali per diventare camionisti Faremo fronte alla carenza di autisti Con un bonus del 50% sul costo delle patenti Prima di scrivere queste cose Fatevi due conti Comune Que potentiate lerei Beaumont Ad area R угul Ski Con un bonus del 100% spre Cape Roar Ad area Mo Gas Con un bonus del 50% Abbations Cuando cresci L smiles